Nella nostra regione parliamo anche di medici di base che si ribellano i poliambulatori con più professionisti. La paura di non avere più la possibilità di un rapporto privilegiato, anzi quasi familiare, con il proprio medico di base ha mobilitato numerosi cittadini che, sorpresi di vedere i professionisti scendere in piazza per protestare l'altro ieri, si sono fermati davanti al banchetto in via Canciani. Dalla richiesta di informazioni sulla più generale situazione che riguarda la categoria, alle più specifiche, anche delucidazioni, sui motivi dello sciopero nazionale che sarà in programma per i medici il 19 maggio. Diversi udinesi hanno così affollato il presidio dei camici bianchi per ottenere rassicurazioni sulla paventata possibilità di perdere il proprio medico di riferimento e sulle modalità anche per aderire alla petizione online lanciata dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.